Si è concluso mercoledì 23 maggio presso l'Aula Magna dell'Istituto Avogadro Clean Food, un'iniziativa realizzata nell'ambito dei progetti europei Life 14 e finalizzata alla sviluppo di politiche per il calcolo e la riduzione dell'impronta di carbonio in varie organizzazioni come scuole, industrie e enti. L'impronta carbonica è un indicatore che ci informa sulle emissioni che ogni stile di vita, che ogni comportamento giornaliero di tutti, non solo delle scuole, comporta a livello di emissioni di clima alteranti. Le scuole in particolare sono state coinvolte in questo progetto, devo dire, anche in maniera molto ambiziosa e importante perché coinvolgono gli studenti, non solo il corpo didattico, ma anche gli studenti che possono incidere con dei comportamenti quotidiani sui vari stili di vita e mi riferisco a mobilità, consumo di risorse, consumo di acqua, che in termini di emissioni di gas serra hanno un impatto più o meno forte. Riuscire a impattare appunto il meno possibile e ridurre le proprie emissioni può sicuramente incidere su uno stile di vita più sostenibile. Quindi diciamo che in questo caso il progetto, che è il progetto Clean Food, che è un Life europeo, è riuscito proprio a livello capillare ad arrivare anche a delle realtà molto partecipate appunto con le scuole. Però in realtà, diciamo così, il nostro partner era appunto la città metropolitana di Torino e anche un'altra grande realtà che ha supportato tanto il progetto è stato il Dipartimento di Management ed Economia dell'Università di Torino. La città metropolitana di Torino ha partecipato individuando cinque istituti scolastici del territorio presso i quali effettuare il calcolo dell'impronta carbonica. Il calcolo, oltre a tener conto dei consumi energetici ed elettrici delle scuole coinvolte, ha anche considerato categorie specifiche quali i trasporti e la mobilità sostenibile, i rifiuti e la raccolta differenziata. Gli studenti hanno lavorato in particolare sul tema della mobilità casa-scuola, consumo di bottiglie di plastica, raccolta dei rifiuti prodotti, con l'obiettivo di individuare una serie di buone pratiche per la riduzione dei consumi e delle emissioni atmosferiche, costruendo così un modello di sostenibilità per le scuole. Il progetto è un progetto veramente molto interessante, tra l'altro in collaborazione con l'Enea, 5 scuole superiore del nostro territorio, l'ufficialità metropolitana, la protezione civile, quindi un progetto che ha coinvolto moltissime istituzioni. Lo scopo di questo progetto è far capire ed evidenziare quanto la nostra incidenza delle nostre azioni sul pianeta sia importante e sia anche un problema per le risorse del pianeta stesso. La consapevolezza, creare consapevolezza del nostro impatto sul pianeta è il primo passo per poi creare anche uno stile di vita che va nell'ottica di cambiare il nostro stile di vita, perché il nostro stile di vita, a tutti i dati, dicono che è insostenibile. Gli stessi istituti proseguiranno nel progetto con la fase successiva, a cura di città metropolitana, ci basta un pianeta, per la realizzazione di azioni di miglioramento finalizzate alla riduzione dei consumi nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.